Le famiglie salentine sono più povere rispetto alle altre italiane. Si taglia su tutto, mobili, elettrodomestici, vestiti, meno sul cibo. E' frutto, come è noto, della crisi che travolge anche le imprese. E' il rapporto tracciato dalla Camera di Commercio di Lecce per la decima giornata dell'economia a consegnare un quadro preoccupante. Da un lato le imprese aumentano, 939 in più in un anno, ma dall'altro resistono poco sul mercato, perché è frutto della disperazione di lavoratori dipendenti licenziati e che decidono di mettersi in proprio. Questo popolo delle partite IVA molto spesso è un popolo, tra virgolette, di disperati, nel senso che sono lavoratori molto spesso espulsi dal mondo del lavoro e che cercano di creare un proprio futuro aprendo una partita IVA. Molto spesso, purtroppo, non ce la fanno e queste partite IVA rimangono lì, ferme. Il tasso di disoccupazione nella provincia di Lecce è più alto della media nazionale, 15,6% a fronte di quella italiana dell'otto, il più sono donne. Il 16% degli imprenditori licenzia, solo il 3% assume. Naturalmente, per contro, il tasso di occupazione risulta di molto a di sotto della media nazionale. Il solo spirale o di risalita arriva dal commercio sui mercati esteri. La nuova frontiera è lì. Abbiamo un export che cresce del 30%, e questo la dice lunga, nel senso che forse è proprio questo il solco che dobbiamo iniziare a perseguire per avere un'idea di sviluppo, l'internazionalizzazione. Se le idee ci sono, serve che però ci siano anche i fondi per alimentarle. Qui la richiesta unanime di Camera di Commercio e istituzioni compatte, affinché le banche agevolino l'accesso al credito, specie considerato che i tassi di interesse sono i più alti della media nazionale.